L'unica prevenzione seria che si può fare è nel caso di eventi accidentali come è stato vaia o lo schianto da neve dell'anno successivo la rimozione più completa e più veloce possibile del materiale a terra. Quello che invece non ha senso fare è rimuovere piante sane al margine di nuclei bostricati nella speranza che questo abbia una funzione preventiva. Noi attribuiamo spesso al bostrico delle regole di comportamento che lui puntualmente disattende e quindi non ha senso, non è realistico arginare in questa maniera un'infestazione di bostrico.